L'antropologia socioculturale è la scienza che indaga le basi culturali alla fonte di ogni comportamento sociale. L'antropologa Ruth Benedict la definiva come l'insieme di tutti quei tratti caratterizzanti l'individuo che non possono essere trasmessi biologicamente. Personalmente amo immaginare la cultura come un campo di significati socialmente condivisi attraverso il quale ognuno di noi pensa, sente, interpreta e quindi fa ogni cosa. Come antropologo osservo e partecipo in prima persona all'esperienza dei soggetti che studio nel tentativo di spiegare il modo in cui l'altro interpreta il reale, contribuendo di fatto alla sua costruzione. Capato, a mangiare, aiuto! Sciuracca, mi alpia, capisci il palo da che bemmo sei che io so mangiare! Comuncio!